buonasera a tutti dall'atelier benigni degli editori in via belenzani la redazione di vita trentina con due ospiti che sono già riconoscibili dalla corona che portano in testa in tempi di feste vigiliane che inizieranno a brevissimo siamo con il re dei ciusi e con il re dei gobi ovvero salvatore renda sono io e luca romei esatto buonasera a tutti questa è la terza intervista la terza sfida al microfono prima della sfida vera e propria sì è la terza confermo confermo in questo periodo siete più chiamati a combattervi con le parole rispetto che che con le armi diciamo tra virgolette le armi quelle della disfida però è tutto un avvicinamento no sì sì confermo diciamo che le parole sono sempre di stima fra di noi lasciamo tutto al 26 quel giorno sarà molto importante vuoi per noi vuoi per loro ma soprattutto per la città perché una cosa sentita dal pubblico della città anzi venite numerosi a vederci assolutamente non si potrà mancare partirei dalle presentazioni però perché appunto abbiamo davanti due re vogliamo però sapere anche chi siete nella vita reale al di fuori delle feste vigiliane cosa fate e come siete diventati re dei ciusi e dei gobi chi vuole iniziare lasciamo la parola allora comincio io mi chiamo luca romei ho 45 anni e sono un gobo quindi sono entrato nell'allora confraternita dei ciusi e dei gobi nel 2003 quindi è 21 anni quest'anno e sono re da cinque anni nella vita sono impiegato tecnico per la provincia di trento abito e lavoro a riva del garda ok io sono il re dei ciusi ho 55 anni fra qualche giorno mio lavoro sono un dipendente pubblico per lo stato sono entrato anch'io come lui all'epoca della confraternita o meno anni di lui ne ho sette e sono due anni ormai che mi hanno letto a furor di popolo si dice capo a furor di popolo come re dei ciusi si precisiamo subito che nonostante le apparenze questa intervista non nasce da un'idea di vittorio sgarbi come potrebbe sembrare ma è un'idea di qualcun altro è l'onipresente sgarbi non c'entra nulla con questa cosa delegare le responsabilità agli altri sono molti elementi di sfida vediamo stato contro provincia 55 anni c'è anche l'aspetto generazionale contro 45 anni quindi come vivete un po anche questi aspetti che compongono poi danno colore anche alla competizione ma allora sì diciamo che abbiamo due età diverse io sono all'interno della confraternita da più anni ma questo diciamo non incide come diceva salvo prima sulla stima e sul rispetto che comunque c'è tra di noi in prima persona reciprocamente perché diciamo che al di fuori della di sfida del 26 giugno comunque collaboriamo tutto l'anno per portare avanti le varie iniziative che promuove la pro loco centro storico di trento e ripeto oltre che tra di noi anche con l'intera fazione avversaria perché comunque avversari sono così vanno chiamati quella dei ciusi sì diciamo la base sempre la pro loco centro storico di trento come giustamente diceva rome abbiamo tre eventi grossi noi che sono il la gansega dei ciusi dei gobbi che appena si è svolta poi abbiamo tutto il blocco delle feste vigiliane con la di sfida che diciamo la cosa più importante infatti chiude tutte le feste vigiliane e poi abbiamo anche l'autunus che sempre come pro loco centro storico alla fine siamo grandi amici tutti lavoriamo sempre spalla spalla giustamente su 365 giorni 364 lavoriamo è l'ultimo giorno monta su che neanche ci possiamo vedere ma noi siamo partito proprio dal dal nucleo no da questa vostra sfida però raccontateci un po a per chi soprattutto ci segue magari anche in video e non sa bene come si svolge la disfida come si cosa succede la sera del 26 giugno e soprattutto raccontatecelo dai vostri rispettivi delle vostre rispettive parti ovvero cosa fa una fazione cosa fa l'altra fazione va beh ok dai allora fermo restando che parte da un evento storico successo realmente poi tramandato nei vari anni quindi risaliamo già all'epoca medievale quando i buon trentini chiamarono i feltrini per farsi aiutare nel ristrutturare le mura soldi promessi soldi non dati e allora i feltrini quindi i ciusi rubarono polenta e rubarono donne questo è stato tramandato da anni in anni fino ad arrivare alla disfida vera e propria dove viene rievocato col paiolo e la polenta che viene rubata i gobi che si mettono a difesa della un cerchio a difesa della polenta quindi vanno a rappresentare le mura della città i ciusi che in catene formate da 5 barra 6 uomini si attaccano ai vari gobi per cercare di rompere il cerchio gioco consiste in due fasi la prima fase iniziale una fase di studio di solito 10 11 attacchi di 10 6 15 dove noi cerchiamo di capire dove l'anello debole della del cerchio si stancano loro ci stanchiamo noi il clou arriva all'attacco finale perché con questi attacchi si vincono si perdono secondi l'attacco finale dove si dà tutto dove loro devono resistere al nostro attacco e noi dobbiamo farli desistere rompere il cerchio e rubare il coperchio del paghiolo allora salvo è stato molto dettagliato però gli sfugge forse un particolare e la storia ci insegna che i feltrini tentarono di rubare la polenta però vennero respinti dai trentini e li scacciarono e ecco aggiungo solo che oltre alle fasi iniziali del gioco dove ci sono le prove di forza quindi le trazioni delle catene dei ciusi sul cerchio dei gobi e ci sono anche delle prove iniziali una è il tiro alla fune è anche quella da degli avvantaggi e da quest'anno fiume adige permettendo perché mi è sembrato di capire che la zatterata è ancora in dubbio comunque il programma è che parteciperanno anche due equipaggi dei ciusi e dei gobi quindi una zattera grigio nera colore dei gobi e una zattera giallo rossa colore dei ciusi e il vincitore quindi chi arriverà per primo al ponte di san lorenzo riceverà degli avvantaggi che verranno tenuti buoni per l'attacco finale durante la sfida molto interessante anche questa novità degli equipaggi vi siete preparati in maniera particolare perché una domanda che è molto molti si faranno è come si arriva tonici preparati a questa sfida che anche una componente di gioco come giustamente avete sottolineato ma dove l'aspetto fisico poi però al suo peso ma allora sicuramente non ci si arriva a cuore leggero ci vuole comunque diciamo una giusta dose di concentrazione noi siamo comunque competitivi quindi se carreggiamo ci teniamo anche a raggiungere la vittoria dopo se saranno più bravi i ciusi faremo loro i complimenti ecco ma in queste regole che ci sono ci sono anche degli arbitri qual è il rapporto con gli arbitri che è sempre una questione un po delicata no in qualsiasi sport tanto più non sport tipicamente di contatto chiamiamolo sport in una competizione in una sfida come questa che è proprio giocata sul contatto fisico allora diciamo che gli arbitri come tutti gli arbitri sono sempre super partes giustamente comunque c'è da dire che ogni tanto le decisioni vanno contro di noi a favore loro viceversa non vengono ben accettate perché ognuno con la competitività del gruppo tiracqua al proprio mulino diciamola è normale perché c'è da calcolare che noi arriviamo alla di sfida dopo un anno in quest'anno tra degli incontri che facciamo insieme a loro perché giustamente loro hanno innesti nuovi noi abbiamo innesti nuovi noi facciamo come loro anche allenamenti da soli perché diventa complicato nei vari ruoli decidere dove mettere le persone valutare le persone non è soltanto io ho fatto io sono partito proprio dalla gavetta io ero un ciuso semplice ho saltato il capitano sono diventato re e da ciuso non è facile in base al ruolo che ti viene assegnato gancio mediano stare dietro e sono sollecitazioni differenti e il tenere 30 40 secondi a massima potenza per noi e per loro diventa complicata se non c'è una base una preparazione che dobbiamo fare durante l'anno ecco per chiudere la parentesi arbitri e riallacciandomi appunto a quello che diceva salvo loro o comunque sono dei garanti del rispetto del regolamento perché comunque la disfida dei ciusi dei gobbi ha un vero e proprio regolamento scritto quindi il regolamento che stabilisce diciamo delle dinamiche come deve essere svolta la fase iniziale e soprattutto ed anche la fase finale e non c'è il var quindi non si può non c'è il var non c'è il var la moviola ancora non l'hanno introdotta e questa è una buona notizia e avete parlato di nuovi innesti e avete un po' descritto appunto un po' dei ruoli e volevo chiedervi la prima cosa come si diventa ciusi o gobbi perché appunto magari questa è una curiosità che chi ci segue potrebbe voler approfittare per per colmare e poi una volta che si decide di far parte di una delle due fazioni come vengono decisi i ruoli al loro interno? Beh per quanto riguarda la mia fazione diciamo che tendenzialmente è aperta a tutti chi si scrive si scrive nella proloquo centro storico di Trento se poi manifesta la volontà di volere mascherarsi come noi venire giù in piazza per la mia fazione rispetto all'altra diciamo che la nostra fazione ciusi è un po' fuori dal come dire dal siamo più zuzzurelloni ecco mettiamola così loro sono più più belli più bravi diciamo i caceroni siamo noi è una per quanto riguarda i miei è una cosa che bene o male ti senti dentro perché andare in giro con una calzamaglia giallorossa e i pallini di fuori o ce l'hai dentro non lo fai il discorso è semplice una volta che vengono a provare tendenzialmente noi abbiamo due generi di ruoli iniziali che sarebbe il gancio che il primo uomo che si aggancia si attacca noi abbiamo delle cinture da scalata delle corde da scalata con delle protezioni in cuoio hanno data la vita il gancio si attacca alla corda del gobbo che a sua volta mette le mani nelle corde dei colleghi quindi diciamo un doppio aggancio più a volte un supporto dietro a quel punto a questo gancio vengono attaccate quattro persone le quattro persone per poter valutare un gancio mediamente noi viaggiamo da chili e qua c'è il nemico diciamo mettiamo su dietro quattro persone dagli 80 ai 110 kg dietro dopodiché proviamo a tirarlo e il gancio con le sue manitte chiuse deve reggere almeno 30 secondi se non ce la fa non è un gancio è tutta questione di nervo a volte interviene oltre al fisico come allora interviene anche la testa perché tante volte è talmente lo sforzo di o per noi o per loro di aprire la mano e lasciare le corde che interviene la testa e ti dice tieni chiuso tieni chiuso non si molla mai finché si può poi si può invece com'è che fate ma allora beh per quanto riguarda la fazione che rappresento per quanto riguarda appunto il ricoprimento del ruolo chiuso gobo io quando sono entrato nella confraternita non ho avuto assolutamente dubbi io da buon trentino ho diciamo sposato la causa dei gobi dei trentini quindi non mi è mai passato nell'anticamera del cervello di iscrivermi come chiuso dopodiché e allora il gruppo parlo sempre per i gobi è un gruppo che ormai si è diciamo amalgamato e lo zoccolo duro c'è già da qualche anno è fisiologico che un anno magari esce qualche elemento e ne entrano di nuovi però diciamo che l'ossatura ormai si è creata da qualche anno i ragazzi ritornano quindi diciamo che l'entusiasmo evidentemente c'è e c'è voglia di partecipare perché tutti gli anni al termine della disfida dei chiusi dei gobi il 26 giugno non si vede l'ora che arrivi la disfida esatto si ragiona già alla disfida dell'anno successivo ecco ci sono dei periodi dell'anno quindi in questo questa competizione viene lasciata un po in sordina magari uno ci pensa o ripensa a comandata la volta precedente invece ci sono poi dei periodi mi pare di capire in cui diventa un po più pressante l'impegno ecco potete descriverci un po questo andamento stagionale della disfida ma al termine della disfida diciamo che gli sfottò tra gobi e chiusi ci sono bene o male tutto l'anno quindi diciamo non manca occasione durante i vari ritrovi che si susseguono l'un l'altro di stuzzicarci a vicenda e dopodiché come diceva salvo ci sono altri appuntamenti dove invece siamo chiamati diciamo a collaborare insieme non ci sono casacche quindi lì siamo tutti sotto la maglia pro loco maglia feste vigiliane ecco però è dello stesso colore per tutti esatto quindi siamo tutti comunque facciamo parte della della stessa associazione della pro loco abbiamo sposato la stessa causa e quindi ci diamo da fare per portare avanti queste iniziative che vengono organizzate durante soprattutto le feste vigiliane e ottobre quando c'è autunno però diciamo dai che da aprile comincia a montare sul testosterone aprile maggio ma ancora ancora la festa di natale è ancora la cena di natale sì sì allora correggetemi se sbaglio perché abbiamo trovato le statistiche online che danno 21 vittorie per i gobi e 17 per i chiusi no è sbagliato confermatissimo l'albo d'oro recita così sicuro sicurissimo ma anzi 22 aggiornato al 2024 perché già conti 2024 vedremo ci ritroveremo qua al 27 vedremo e volevo chiedervi appunto al di là delle statistiche cosa dite come fate per motivare le vostre squadre le vostre fazioni a tirare fuori il meglio durante prima e durante la disfida allora noi quando scendiamo in piazza ci raduniamo giustamente a differenza loro io battezzo tutti in piazza tramite l'elmo di un mio capitano si inginocchiano a me io battezzo il nome dei chiusi in modo tale da creare gruppo che già c'è alla bassa siamo guliardi ci ci divertiamo si fa di solito un discorso di caricamento ma i ragazzi già sanno bene o male quello che devono fare quello che non devono fare durante l'avvicinamento alla piazza perché loro ci aspettano dentro li lasciamo un attimo sfogare perché la tensione è tanta non sembra ma noi arriviamo carichi loro arrivano prima forse certo sotto certi aspetti è più brutto aspettare noi che arriviamo rimanere in una piazza senza poter fare niente perché loro sono più seriosi ecco seriosi ti piace ma dipende dalle situazioni niente poi quando si entra in piazza come loro tutti hanno la maschera i miei ragazzi hanno tutti la maschera tranne io i miei tre capitani come lui e i suoi tre capitani siamo quelli che ci mettiamo la faccia siamo quelli che facciamo in modo che le cose vadino in una certa maniera dando il meglio parlo anche per te sia dei ragazzi che di noi poi alla fine sono quei maledetti minimo 30 secondi finiti quelli finite le diciamo chi perde smonta io già ho smontato due volte onestamente quest'anno comincia avere una certa età è giusto largo ai giovani che si metta qualcun altro quest'anno a smontare la piazza dopodiché vinto persa alla fine si mangia il giorno dopo il 27 il 28 ritorniamo quel che siamo giustamente con gli sfottori da parte di chi vince nei confronti di chi perde normalmente e quelli ci stanno e quelli ci stanno ecco ci interessa anche conosce un pochino quello che c'è ancora più dietro le quinte di chi poi scende nel lagone a sfidarsi in questa maniera che avete descritto così così bene aggrappandosi diciamo le corde dell'avversario e giustamente l'avversario non il nemico anche questa è una bella sottolineatura che mi pare che alla quale tenete ma ecco immagino ci sia una macchina organizzativa dietro notevole siamo anche nell'anno di trento capitale europea del volontariato quindi se vogliamo dire anche due parole anche come riconoscimento a tutte le persone che non sono magari lì insieme a voi nella piazza ma che in qualche modo danno un sostegno alla proloco in questa grande operazione assolutamente allora i ciusi e i gobi sono diciamo composti da circa 45 50 elementi ciascuno ma l'associazione è molto più ampia ci sono anche diciamo chi non porta il costume che comunque si prodiga perché la disfila dei ciusi e i gobi venga organizzata e riesca al meglio quindi c'è anche una parte organizzativa non solo operativa dopodiché ciusi e i gobi sono gente ragazzi come tutti gli altri normalissimi che durante la settimana lavorano ci troviamo appunto per fare questi allenamenti in preparazione appunto delle feste di vigiliane e della disfida e l'altra cosa che chiedevi quindi immagino ci sono dietro anche tante persone e poi l'altra questione potrebbe essere avete mai pensato di aprire anche alle donne non è previsto il regolamento infatti siamo in termini di che volevo aggiungere commissioni pari opportunità in ogni realtà ecco su questo c'è un dibattito aperto apriamo un dibattito e che forse appunto abbiamo tralasciato prima è che effettivamente oltre ai ciusi e dai gobi ci sono anche le strozzere che sono le donne dei trentini che preparano la polenta hanno il compito appunto di portare a cottura la polenta che poi viene contesa tra i ciusi e dei gobi hanno anche il compito esattamente di supportare i gobi durante l'assalto finale per ostacolare le fasi di attacco dei ciusi affinché loro per evitare che riescano a rompere il cerchio dei gobi entrino all'interno e rubino il paiolo della polenta voleva agganciarmi a quello che ha detto lui la proloco centro storico di trento è una macchina che si sta ingrandendo noi sabato abbiamo fatto su una cena siamo riusciti con tutta la pioggia arrivata su alle 11 e il freddo siamo riusciti a servire mille persone abbiamo fatto sold out siamo riusciti ad arrivare alla fine siamo stati qua fino alle 3 di mattina sotto l'acqua a smontare tutto perché la domenica doveva essere tutto a posto noi come tutte le proloco quello che doniamo alla proloco è il nostro tempo in esubero la macchina organizzativa che c'è dietro anche solo per la disfida le ciusi dei gobi è molto grande ci sono tante persone che lavorano dietro da chi organizza da chi gestisce da chi ci porta con i cortei con le bande con i vari permessi cioè è una macchina che deve partire mediamente non dico un anno prima ma da gennaio si deve cominciare a muovere se no non si riesce è una macchina molto ben collaudata che funziona in questa nuova forma associativa che è stato necessario darsi da pochi anni ma che va avanti da il 41esimo anno in cosa credete abbia ancora grande attrattività questa sfida dopo tutto sommato anche un tempo se vogliamo anche lungo per una manifestazione di questo genere qual è il segreto secondo voi che la rende ancora così apprezzata anche da chi viene a vedere perché voi abbiamo capito che vi divertite un sacco ma il nostro divertimento è insito nel cercare di fare divertire anche gli altri diciamo l'anno scorso abbiamo dalla mia fazione abbiamo messo ahimè perdendo secondi abbiamo cercato di fare delle novità durante i vari attacchi iniziali presumo che qualche roba te la devi aspettare quest'anno non lo so vedremo perché è giusto che la gente si diverta cioè finché la gente si diverta viene allora va bene finché noi ci divertiamo va bene se questo è collaudato così allora avanti tutta anzi cerchiamo di innovare cerchiamo di inventarci cose sempre diverse sì gli spalti di piazza fiera sono gremiti tutti gli anni quindi evidentemente alla città al pubblico lo spettacolo piace noi chiaramente ce la mettiamo tutta affinché risulti tutte le volte il più credibile possibile ma è credibile perché comunque la competizione è vera e probabilmente il pubblico sente questa competitività pur chiaramente nei limiti del regolamento nel rispetto appunto delle regole però è una disfida molto molto accesa entrambi danno il mille per cento e sottolineiamo che non ci mettiamo d'accordo su chi vince assolutamente quello ci mancherebbe no 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 non ci può scommettere diciamo che tante volte la gente che pensa si sono messi d'accordo problema noi abbiamo avuto stagioni di caldo mostruose e ad onore del vero per due ore e mezza tre ore continuare a tirare loro a resistere col caldo è difficile è difficile dosare le forze per non arrivare a zero all'ultimo attacco finale sono scelte che si fanno però è sempre alla fine non c'è niente di scritto prima domanda personale e poi le vostre famiglie, le vostre mogli, le vostre compagne, i vostri amici cosa dicono di questo vostro impegno, di questo vostro ruolo da re? ma allora diciamo che mia moglie da un lato diciamo anche contenta, fa piacere dall'altro quando gli impegni iniziano a diventare tanti ogni tanto insomma qualche piccolo malumore me lo fa presente però tutto sommato insomma e aggiungo anche che anche lei da quando ci siamo conosciuti qualche anno fa è entrata a far parte della Proloco e partecipa con entusiasmo alle varie iniziative che vengono organizzate quindi è parte attiva diciamo anche lei di questa associazione anche la mia compagna è parte attiva della Proloco e giustamente riusciamo a coincidere e condividere alcune situazioni perché lei è adibita ad altro poi capita quando marzo, aprile, maggio cominciano ad arrivare telefonate la riunione, la cosa vai non so se dice a te anche a te vai anche stasera non vedo l'ora che arriva il 27 ecco c'è un'espressione che volete rivolgere al vostro avversario Re un po' come sfottò e anche un po' come guanto di sfida che lanciate qui in questo momento in attesa del 26 giugno Rome, io penso che avendo affermato che quest'anno bisogna fare l'albo che te la sei tirata come un buon pescatore tanta buona pesca ti auguro quest'anno bene, io raccolgo l'augurio di salvo sicuramente sono convinto che sarà comunque una competizione sentita ma leale noi veniamo da due vittorie consecutive e intenderemo proseguire su questa linea quindi il proverbio dice non c'è due senza tre ciccio non t'allargare con me ne hai vinta una ora vediamo l'altra è l'altro re pian pianino però intanto sono due mettiamo un passo avanti andiamo piano piano a correre che poi puoi inciampare comunque chi vince vince sarà una festa comunque per tutti per tutta la città e per tutta la Proloquo beh con questo guanto di sfida che poi si è trasformato un po' in un guanto di sfida amichevole direi che possiamo salutare i nostri spettatori salutare appunto Luca e Salvatore e dare appuntamento al 26 di giugno in Piazza Fiera per la disfida dei Ciusi e dei Gobi alle 21.15 il fischio d'inizio si può dire così? sì ottimo grazie mille allora grazie a voi vi aspettiamo